Ben trovati i video lettori del capoluogo e telespettatori della QTV a questo nuovo appuntamento con grand'angolo la rubrica con la prevenzione di parlare di politica ma non solo. Da un po' di tempo siamo dedicati al non solo e continuiamo su questo filone anche perché a breve temo che avremo una sorta di overdose di politica a propinquandosi la data delle prossime regionali e comunque veniamo subito al tema di oggi che affronteremo con la dottoressa Chiara Gioia psicologa, psicoterapeuta. Chiara grazie di aver accettato questo inizio e di aver voluto mettere la faccia sull'argomento che tratteremo che è un argomento un po' delicato, variamente affrontato a seconda dei punti di vista e dei punti di osservazione e chiaramente affrontiamo così una sorta di analisi molto più generico il termine, adesso non volevo entrare però nel tuo specifico, un'analisi di quello che sono stati gli accadimenti di queste ultime settimane nel paese fino a scendere, il paese Italia, fino a scendere a noi città e parliamo di questi fenomeni di violenza che si stanno con vari tipi di approccio, di modalità, si sono consumati nelle ultime settimane. Parliamo dei femminicidi, parliamo degli accoltellamenti, parliamo della violenza negli stati, insomma parliamo un attimo di... cioè tu cosa ne... qual è dal tuo punto di osservazione quello che ti viene da dire? Che cosa... dici qualcosa. Certo, allora quando noi parliamo di violenza, la violenza sicuramente è una caratteristica della nostra società attuale che a mio avviso è una società in cancrena sotto questo punto di vista. perché? Perché parliamo di violenza da un punto di vista fisico, psicologico, verbale, anche nell'atteggiamento. Sta di fatto che quando si parla di violenza, la violenza tende sempre allo scopo di annichilire, di annientare, di svilire comunque l'altra persona e questo modo di annientare l'altro, che comunque è diverso da noi, può assumere molteplici facce come appunto il femminicidio o comunque la violenza tra i mari o magari anche la violenza, ecco, che si può verificare per strada semplicemente per un semaforo rosso, verde o arancione. Sta di fatto che abbiamo, credo, il dovere di andare oltre una lettura meramente superficiale di questo fenomeno, perché la violenza sicuramente, diciamo, è un processo, è un discorso interiore all'individuo e quindi non è un prodotto prodotto del momento, quindi non è la follia, quindi il blackout mentale che genera poi questa efferata, insomma, dinamicità, no? La violenza noi dobbiamo immaginarla come un'immagine psichica, perché facendo riferimento a quello che è il mio ambito, appunto, psicoanalitico, noi dobbiamo pensare all'individuo, sia esso uomo o naturalmente donna, come un essere psichico e l'uomo è un produttore costante di immagini, perché la psiche di ogni individuo produce delle immagini, cioè che cosa vuol dire questo? Che ogni comportamento è sempre il riflesso di un'immagine psichica, non c'è un comportamento concreto senza prima avere un'immagine. Quando si verificano, diciamo, degli atti violenti, ripeto, non solo da un punto di vista fisico, ma anche verbale, anche solo a livello di pensiero. Pensiamo anche al fatto che oggi, parlando di femminicidio, ad esempio, la donna viene ancora considerata da molte menti maschili come inferiore, ma non solo a livello di forza fisica, anche da un punto di vista proprio ontologico, morale, cognitivo, intellettivo, no? Anche a livello di professionalità. Allora, questo che cosa vuol dire? Che c'è un'immagine della psiche di quell'individuo che funge da traino di tante altre immagini, che invece potrebbero essere funzionali nella lettura e nella visione di quella donna, o comunque anche dei pari e in tutte le altre forme di violenza. Quindi questo che, diciamo, ci porta anche a dire che la violenza è frutto di una misoginia, sostanzialmente, perché non c'è il riconoscimento del femminile. Che cosa vuol dire questo? Che in ogni individuo, sia uomo che donna, a livello intrapsichico, cioè a livello interiore, è presente un atteggiamento maschile e un atteggiamento femminile. Quando si verificano fatti di violenza nelle molteplici forme, espressioni, identità, vuol dire che quell'individuo violento non ha mai riconosciuto questa parte legata al femminile, cioè legata alle emozioni, alla sensibilità, all'empatia, alla condivisione, al riconoscimento dell'altro. Quindi mi stai dicendo, tu adesso mi stai dicendo, Chiara, mi stai dicendo che praticamente la nostra psiche è divisa in due diversi momenti, due diverse fasi, due diverse entità. Diciamo che, allora, noi dobbiamo immaginare il nostro mondo intrapsichico, io utilizzo sempre questa metafora con i pazienti che arrivano per la prima volta da me, come se fosse un palcoscenico di un teatro. Ecco, trattami come un paziente. Esatto, come se fosse il palcoscenico di un teatro, sul quale palcoscenico ci sono tanti personaggi, tanti modi di essere, ok, che naturalmente tendono ad attivarsi nell'arco della nostra vita, in base alle necessità, in base anche alle dinamiche, a quello che noi viviamo fuori, ok. Due parti sostanziali che costituiscono, ecco, la nostra psiche sono la parte femminile e la parte maschile, che tecnicamente si chiamano anima e animus, cioè qualsiasi individuo uomo e qualsiasi individuo donna, quindi senza differenza di genere, ha queste due controparti intrapsichiche. Naturalmente, poi, questo andrà a determinare il proprio modo di essere, no? Quindi, l'identificarsi anche a livello psichico con quella che è la propria identità sessuale, va bene? E quindi, accade che però nella violenza, nei fatti di violenza, l'individuo che agisce questi atti di, appunto, annichilimento nei confronti dell'altro, non è mai entrato in contatto, si dice così, cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile, con questa parte più sensibile, più emotiva, più empatica, più... E quindi, torno al punto di prima, mi stai dicendo che la componente femminile della nostra psiche è quella gentile e buona e la componente maschile sarebbe quella da cancellare, cioè da... No, 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 nel senso che... È quella cattiva, questo che ti voglio dire. Cattiva, nel senso che la componente femminile è la componente che si caratterizza, diciamo, nell'accoglienza, nello sviluppare una maggiore empatia, sensibilità, nell'accogliere le emozioni in un modo diverso. La parte maschile, l'animus, ha la peculiarità della direttività, no? Della scelta, un po' il fatto di avere polso nelle decisioni, ecco, diciamo così, un po' come l'immagine del padre e della madre, no? All'interno di una famiglia, il maschile e il femminile, che naturalmente si completano insieme, nello stare insieme, è una forma di connunzio, ok, di unione, in un certo qual modo, quindi non c'è una parte giusta, una parte sbagliata, diventa una parte sbagliata quella del maschile quando il maschile non riconosce di avere anche quella parte femminile, che comunque è necessaria in qualsiasi psiche e in qualsiasi individualità basilare, quindi la violenza dobbiamo intenderla come un... Un trabordare di una... Esatto, un trabordare, un eccesso, una cristallizzazione, questo è proprio il termine esatto, di un'immagine o comunque di una parte intrapsichica che non dà ossigeno a tante altre parti e quindi è un processo individuale la violenza. Ecco, questa infatti sarebbe stata la prossima domanda, prima però volevo chiederti, prima tu hai citato la misoginia, che devo dire è un tema che ora viene anche giustamente per vita affrontato da più parti, un po' da tutti, in maniera differente, ma comunque viene affrontato e viene... a cui si cerca di dare una risposta. Ma mi hai parlato di misoginia e quindi di questo trabordare, di avere una visione della donna, eccetera, eccetera, eccetera. Un rifiuto della femminilità. Un rifiuto della femminilità. Però io, quando si parla di fatti di violenza, ancorché abbiamo detto da ricondurre a un fatto individuale comunque, no? Cioè l'esplosione di questa violenza, questo trabordare dell'immagine maschile rispetto a quella femminile che nella psiche rappresenta una cosa precisa. Ti dicevo, ma in queste dinamiche, cioè qual è l'attinenza tra, non lo so, come prima anche tu avevi cominciato a citarla, cioè tra il cosiddetto femminicidio, una violenza che ti devo dire io, cioè la violenza domestica piuttosto che quella stradale, piuttosto che che quella, piuttosto che il bullismo, ecco, cioè l'attinenza qual è? Ok, allora, in questo caso, è doveroso mettere in relazione il concetto di violenza, ad esempio con il concetto di fascinazione, di invidia e anche di allucinazione, se vogliamo, no? Prendiamo l'esempio del femminicidio per poi passare agli altri esempi di cronaca, perché hanno sicuramente un nucleo in comune, ma poi si differenziano anche per tanti altri aspetti, questi fenomeni di violenza. Se noi partiamo dal femminicidio, sicuramente in questi uomini che si manifestano così violenti, c'è una problematica anche di narcisismo, di un narcisismo patologico, facciamo riferimento all'ultimo caso della settimana scorsa, che ha travolto tutti noi italiani e non solo, ovviamente, come tutti gli altri casi di femminicidio. È un narcisismo patologico che può sfociare anche in una depressione. Questo che cosa vuol dire? Cioè che l'individuo maschio, in quel caso, ha una difficoltà, mostra una difficoltà nell'accettare un rifiuto. Quindi la donna mi dice di no, la mia compagna mi dice di no, la mia compagna mi vuole lasciare, non sono abbastanza tollerante per affrontare questo rifiuto. Ok? Questo perché? Perché naturalmente possiamo anche pensare che viviamo in una società dove tutto deve essere sempre perfetto, dove bisogna sempre riuscire a raggiungere gli scopi, dove comunque siamo contornati dall'idea del perfezionismo. E questo tanto nella realtà concreta, cioè reale, e parallelamente da qualche anno a questa parte è un'idea che proviene anche da una realtà virtuale. Quindi che cosa accade? Che l'individuo non tollera più un fallimento. Va bene? Perché dobbiamo riuscire, cioè dobbiamo tutti, come dire, rientrare in un certo target. Ok? Ora, questo avremo un altro grande capitolo. Che cosa? Che praticamente la società di oggi non è educata a lutto. Quando ne parliamo di lutto, non facciamo riferimento solamente alla morte di una persona, ma anche alla fine, alla fine di una relazione amorosa, tra amici, quando si interrompe un rapporto lavorativo, ok? Quello che dobbiamo capire è che il lutto comporta sempre un cambiamento. L'uomo è dinamicità, l'uomo è cambiamento sotto ogni punto di vista. Le persone violente non sanno stare al cambiamento, rifiutano perché si sono cristallizzate, come dicevamo prima appunto, in quell'immagine iniziale di perfezione. Quindi io devo riuscire, ok? E li porta poi a sviluppare questo narcisismo patologico, cioè allo stare sempre al centro, all'essere sempre comunque riconosciuti con un vero di perfezionismo, che però sappiamo ovviamente poi può essere disfunzionale, può scadere e cadere in una disfunzionalità. Va bene? Assolutamente. Torniamo al punto in cui eravamo iniziato, da cui eravamo iniziato. Io credo, come già ho avuto modo di dire poco fa, di affermare poco fa, anzi no, cambio la domanda, guarda. Alla luce di tutto quanto tu abbia detto finora, ci abbia illustrato, faccio la sintesi per vedere se ho capito bene, perché scusatemi un attimo solo, così magari capisco io, capite meglio anche voi. Noi siamo di fronte a uno squilibrio, nel momento in cui la violenza esplode, saremo di fronte a uno squilibrio psichico, vero e proprio, cioè non particolarmente grave come la follia, però insomma comunque uno squilibrio che ci impedisce di controllare le nostre pulsioni, giusto? Diciamo così, sì, va benissimo, sì, va benissimo, sì, va benissimo, sì, è chiaro. Quindi, di fronte a questa definizione, noi stiamo assistendo oggi a una generalizzazione dei fenomeni di violenza di un maschio rispetto a una femmina, ok? Io uso il termine maschio femmina che tecnicamente, femminicidio, vuol dire che c'è, a parte che esisteranno pure i maschicidi, adesso questo non è però al di là di questa considerazione, ma alla luce di questa personalizzazione dello squilibrio nella nostra mente, questo generalizzare, ricondurre tutto alla cultura, cioè voglio dire, è giusto? È sbagliato? È un po' in po'? Allora, oggi si parla molto di una cultura legata al patriarcato, c'è colpa di un mancato patriarcato, comunque anche di un patriarcato forse sotto un altro punto di vista eccessivo, no? Quindi la violenza è frutto di questa educazione così impostata, chiamiamola così. Io credo che quando si manifestano delle violenze così efferate e soprattutto con numeri così alti sotto tante forme, quindi sia nel femminicidio, pensiamo anche alla violenza tra ragazzi, no? Pensiamo anche alla violenza che molti ragazzi espitano all'interno delle scuole, nei confronti dei professori, dove comunque non c'è più riconoscimento dell'adulto, va bene? Se prendiamo come esempio questo, vediamo che c'è un riconoscimento di un mancato patriarcato. E certo, di una perdita di valori, giusti o sbagliati, ma perdita di valori. Leggendoli invece applicandoli sul femminicidio come un patriarcato amplificato, no? Quindi poi dipende come la leggiamo, dove la applichiamo noi questa cultura, questa visione, diciamo così. Io credo che la violenza è frutto di tanti processi e è frutto di una mancata educazione, a mio avviso, ripeto, al lutto, di una mancata educazione alla solitudine, che poi insomma ci terrei a spiegare in che senso, una mancata educazione anche al riconoscimento dell'altro, no? Perché prima quando si parlava del rapporto tra violenza, allucinazione, fascinazione, no? No? Noi sappiamo che la storia è comunque, ci insegna, ci riporta molti massacri e molte violenze, no? Basti pensare ad esempio a Caino e Abele. Iniziamo da là. Iniziamo da là, esatto. Quindi questo che cosa vuol dire? Che Caino ha una difficoltà nel riconoscere l'altro, va bene? Perché comunque occupa uno spazio. Occupa uno spazio che poi bisogna condividere. La fratellanza viene sovrastata da un narcisismo patologico in un certo qual modo, ok? O magari spesso si pensa che la violenza sia frutto di una regressione, quasi nel mondo animale, non è così, perché il mondo animale esprime una violenza, come dire, funzionale. L'animale attacca, è violento per sopravvivenza, per un istinto di sopravvivenza, non per invidia, va bene? Non per fascinazione, non per cattiveria come fa l'uomo. Quindi vuol dire che questa evoluzione dell'uomo in realtà è un'evoluzione superficiale, ma poco di sostanza in un certo qual modo, perché torniamo sempre a questo processo individuale che si è arrestato, va bene? Quando io parlo di educazione alla solitudine, la solitudine non dobbiamo immaginarla come una malattia, come molti pensano. Molte persone arrivano e mi dicono, io sono malato perché mi sento solo, perché io soffro la solitudine, ok? In realtà la solitudine è una condizione, è uno stato che però ci consente, anche molto aulico, perché ci consente di conoscere noi stessi e di individuarci. Quando l'individuo, uomo o donna che sia, si individua, vuol dire che è in grado di restituirsi al mondo sociale, cioè di porsi in modo funzionale alla società, va bene? E quindi di essere appunto in condivisione. Anche questo è un problema oggi, perché i ragazzi non vengono educati alla solitudine, va bene? Che invece aumenta sempre di più. Che aumenta sempre di più. Noi abbiamo anche un esempio storico recente, pensiamo alla pandemia. La pandemia inevitabilmente ci ha portato alla solitudine, no? Ad una restrizione sociale. Però, come ogni immaginario è fatto concreto, non c'è solo questo volto negativo, c'è anche poi un voltafaccia positivo, perché ci ha insegnato anche che insieme si poteva superare, quindi la condivisione, il perseverare, lo stesso immaginario, la stessa forma mentis, lo stesso modus operandi, di superare quella condizione che ci ha portato alla restrizione. Quindi, Chiara, è tutto molto chiaro, cioè un parolone, però insomma, no, è chiaro che per noi riuscire ad entrare in maniera dinamica all'interno di quello che tu ci hai illustrato risulta un po' difficile, però mi sembra che il tuo ragionamento sia stato abbastanza chiaro e comprensibile, e se lo è stato per me, stiamo tranquilli che lo è per tutti, cioè quindi da questo punto di vista stai serena. Ora io però vorrei fare la domanda non più alla psicologa Chiara Gioia, ma alla cittadina Chiara Gioia, cioè all'essere vivente Chiara Gioia, alla persona Gioia, Chiara Gioia, chiaramente. Ti volevo dire, ti vorrei chiedere, prima abbiamo parlato di punti di osservazione, no? Cioè ogni fenomeno poi subisce una differenza, una differente analisi e giudizio a seconda dei punti di osservazione di chi stia giudicando o analizzando. Ora, come cittadina italiana, portando dietro questo bagaglio però, questo, come posso dire, questo essere comunque coinvolta, no? Attraverso il tuo lavoro, in osservazioni un po' differenti. Tu, che cosa, cioè noi ci siamo di fronte a questo fenomeno, che, ripeto, io mi preoccupo del femminicidio, mi preoccupo tantissimo dei fenomeni di bullismo, mi preoccupo tantissimo delle reazioni che le persone hanno anche, come dicevo prima, in mezzo alla strada. Cioè, si vede, però, follia pura, no? Gente che reagisce in maniera esagerata a cose che possano capitare a chiunque. La cittadina Chiara Gioia, cosa pensa, come penserebbe di poter intervenire? Perché è chiaro che qualche correttivo dobbiamo cercare di cominciare ad avviarlo, non sarà semplice, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare. Visto dal vostro mondo, le istituzioni, le persone, la famiglia, che cosa dovrebbero fare, come dovrebbero approcciare? Allora, io credo che la parola chiave sia quella della comunicazione, del dialogo e della parola. Cioè, nel senso che oggi questi fenomeni di violenza, se noi pensiamo alla violenza, la violenza è un non comunicare, no? È la mancanza della parola. Quindi dobbiamo iniziare, tutte le istituzioni, la scuola, la famiglia, tutti i punti di riferimento, va bene? A impostare la cultura del dialogo, la cultura della parola. La parola ha un grandissimo potere terapeutico. Quando io racconto un fatto, vuol dire che lo sto condividendo, vuol dire che mi sto anche alleggerendo, no? Di quel fatto che magari emotivamente mi ha caricato, va bene? Per me può rappresentare pesantezza, piombo sostanzialmente. Quindi, quanto si comunica all'interno delle famiglie? Ora, naturalmente non c'è un decalogo della famiglia perfetta, non deve esserci. Non può esserci un decalogo di una scuola perfetta, perché sappiamo che non è possibile, no? Però sicuramente oggi quello che io noto, sia come cittadina, ma noto anche poi nel lato professionale, è proprio l'assenza della comunicazione, perché la comunicazione implica la capacità di saper stare in relazione. E il malessere di oggi è legato proprio a questo. Io non so stare in relazione con l'altro, con la società che avanza o che magari no, va bene? Con il cambiamento. Quindi nasce un malessere e questo malessere si traduce in violenza. Ma le armi migliori sono sicuramente, ripeto, dare spazio anche all'interno delle scuole, parlo anche delle mie esperienze professionali, della mia attività anche, insomma, attuale, di concedere degli spazi ai ragazzi, a livello di gruppo, va bene, per confrontarsi, per condividere, per... Credo che spesso oggi si parla di inserire, ecco, un'ora, due ore di educazione all'effettività e ai sentimenti, no? All'interno delle scuole, forse magari anche in via facoltativa, ancora non si sa, non è ancora ben definito. In realtà dovrebbe essere qualcosa di più corposo, credo, e soprattutto, ripeto, far tornare le istituzioni e le agenzie educative per eccellenza a comunicare fra di loro, perché oggi spesso accade che la famiglia può riportare un problema di un ragazzo a scuola o viceversa e l'altra agenzia educativa fa fatica comunque a riconoscerlo. E lì allora, naturalmente, si può solo amplificare il malessere che può sfociare anche in violenza. Ecco, adesso ci avviamo alla conclusione, a conclusione chiara, perché purtroppo i tempi sono quelli che sono, ma anche questa velocizzazione della società probabilmente avrà, nella gestione del tempo, avrà avuto qualche responsabilità rispetto a quello che oggi siamo. Io, assolutamente, vorrei ribaltare un attimo il punto d'osservazione. Noi abbiamo assistito a questi atti di violenza, anche volerci fermare solamente, volessimo fermarci ai femminicidi di cui abbiamo avuto notizia nelle ultime settimane, accadute nelle ultime settimane. E vorrei passare un attimo alle reazioni, alle reazioni del mondo femminile, che sono state tante, anche molto rumorose, alcuni, secondo alcuni, anche forse esagerate, nelle proprie dinamiche, nei propri modi di porsi, perché io poi penso anche questo, che se vuoi ragionare con qualcuno non è il caso che tu l'aggredisca in maniera troppo violenta, perché se no cala la sala cinesca e l'hai finita là. Quindi, a questo punto abbiamo parlato da parte del mondo femminile, adesso parliamo per due minuti del mondo maschile. Il mondo maschile è pervaso sicuramente da questa cultura, io non la nego, cioè, come se la mia mamma mi ha educato in un certo modo, io non posso essere una roba troppo diversa, no? Per quanto voglia sforzarmi. E quando mi sforzo è comunque una forzatura, perché ecco, nella parola sforzarsi c'entra proprio il termine forzatura. Secondo te, tutte queste manifestazioni, queste aggressioni contro il mondo maschile in generale, hanno un effetto positivo, negativo, servono, non servono? Io credo che bisogna sempre mantenere una sorta di equilibrio, quindi, insomma, non possiamo giustificare, no? Ovviamente non possiamo andare a condannare una violenza maschio verso la femmina, uomo verso donna, quindi, insomma, altrettanto, non possiamo andare a giustificare come reazione una violenza, insomma, delle donne nei confronti del mondo maschile, anche perché, anche in quel caso, poi, ricordiamo che sono, anche quello diventa un punto di riferimento, un esempio, no? Per le giovani generazioni. Quindi, concludo dicendo che, a mio avviso, quando si parla di educare le persone all'essere psichici, quindi a tutto quello che ne abbiamo detto, è un'educazione che urge su tutte le fasce d'età, perché sia dal bambino e nell'adolescente per un domani, ma anche per gli adulti oggi, perché sono il punto di riferimento delle generazioni che poi verranno a costituire il mondo adulto domani. Chiara, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. Sei stata, per quanto possibile, che mi rendo conto che la materia è difficilissima, insomma, è complicatissima. Ti ringrazio, ti ripeto, di averci voluto mettere la fascia, perché non è così scontato che una professionista venga così, ad affrontare gli argomenti in maniera così calda, no? In maniera tranquilla. Quindi tu l'hai fatto, te ne do merito, ti ringrazio. Grazie. Mi auguro che avremo presto modo di affrontare magari qualche altro ragionamento, qualche altra riflessione sui temi che popolano il tuo mondo, e ce ne sono tanti. Ringrazio tutti quanti voi, video lettori del capologo e telespettatori della QTV, e vi rimando a un prossimo appuntamento con Grandangolo. salutandovi, dimenticavo una cosa importantissima, mi sono presa una mezza cazziata da mia madre, perché dice, mia madre è 91enne, che dice che non la saluto da un po' di tempo, stasera me ne sono ricordato, ciao mamma, ci vediamo.